Grazie Presidente, Assessore, colleghi della maggioranza e dell'opposizione. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ritiene questo bilancio indegno, inaccettabile, irricevibile. Questa maggioranza che oggi non è presente sui banchi, come non lo è stato molte volte in quest'anno, un anno fa, visto che ormai governa da un anno, si è presentata agli elettori all'insegna di uno slogan che purtroppo è rimasto slogan, discontinuità rispetto alla precedente amministrazione disastrosa del sindaco Alemanno del vice sindaco Belviso, oggi consigliere, degli Assessori Ghera, Bordoni, oggi consiglieri. E questa discontinuità, a giudicare dai bilanci che fino ad oggi sono stati fatti, non si è verificata. Infatti questi bilanci contengono gli stessi vizi, le stesse caratteristiche dei bilanci precedenti. Non è stata fatta alcuna lotta contro gli sprechi, ad esempio contro gli affitti d'oro. I bilanci delle società municipalizzate continuano a rimanere fuori controllo. Tutto questo nel mentre il bilancio viene chiuso grazie ai 280 milioni che sono stati generosamente elargiti dal Salvaroma Ter, così come il precedente Salvaroma ne aveva concessi 315 a valere sul 2013, altrimenti quel bilancio non si sarebbe potuto chiudere, nel mentre le entrate locali vengono alzate ai massimi livelli. Mi riferisco ad esempio alla Tasi, alla COSAP, alla tassa di soggiorno, alle tariffe a domanda individuale, vengono innalzati gli asili nido, il trasporto scolastico, per poi finire alla tassa di rifiuti. Nel mentre Roma è in base a dei rifiuti, il piano finanziario AMA passa dai 670 milioni a 745, anche se poi l'azienda dice nel suo piano finanziario che farà 26 milioni di efficientamento. In ogni caso un aumento di 40 milioni va a finire nella tariffa dei romani, nel mentre, come vediamo tutti i giorni, le strade di Roma sono in base dai rifiuti. Questo senza contare, come ha detto l'Oref, l'organismo di revisione, che il bilancio viene chiuso per effetto di una riduzione del fondo svalutazione dei crediti. Questo cosa significa? Che sostanzialmente il Comune fa affidamento su dei soldi che sono soltanto figurativi, che sono soltanto sulla carta, ma che poi non passeranno per cassa o che comunque passeranno più tardi. Questo sarà l'ennesimo presupposto tra qualche anno, e noi diremo che ve l'avevamo detto, nel mentre voi oggi approvate questo bilancio, sarà l'ennesimo presupposto per l'ennesimo Salvaroma. Chi ci ascolta potrà pensare che queste sono le farneticazioni del solito grillino contestatore, che tuttosommato questa maggioranza sta cercando di operare in discontinuità con la precedente, che tuttosommato il sindaco Marino è una brava persona, questo è un po' quello che si sente per le strade della città quando parliamo con i cittadini, ma in realtà questo non lo diciamo noi, è lo stesso OREF che ha continuamente bacchettato questa maggioranza su tutti i bilanci che è finora approvato, previsionale, consuntivo e questo previsionale, ossia lo stesso organismo di revisione economico-finanziaria del Comune, che deve controllarne i conti e i cui componenti sono terzi, perché sono estratti a sorte. Ora riguardo a questo bilancio, così non si può dire che questa è una posizione del movimento, ma è una posizione espressa da un soggetto terzo, l'OREF fa ben 32 censure, pensiamo di leggervele, intanto comincia dicendo che l'OREF non è a conoscenza dell'attività dell'amministrazione capitolina eventualmente in corso, idonea ad eliminare le criticità circa quanto comunicato dal MEF, dal Ministero, dopo la verifica amministrativa contabile, anche in considerazione di eventuali, e ve lo sottolineo, responsabilità per danno erariale, ed in particolare per quanto concerne, è bene che le considerino bene e attentamente queste parole i consiglieri di maggioranza che si accingono a votare sì su questo bilancio, e voteranno sì tra molti giorni, visto che abbiamo intenzione di fare una durissima opposizione in aula. Comunque l'OREF dice, rileva delle criticità riguardo, 1. Gestione finanziaria ai sensi degli articoli 162, 195 e 243 del Tuel, 2. Bilanci azienda speciale Farmacap, che questa maggioranza ha approvato, nonostante una perdita di 15 milioni di euro, dei bilanci precedenti, bilanci che però sono stati approvati da questa maggioranza, 3. Il legittimo ricorso ad affidamenti diretti, beh, certo, quelli servono, grave irregolarità nella gestione contabile, e seguono di lì una decina di articoli del Tuel, testo unico a enti locali, inclusi quelli in tema di somme urgenze e debiti fuori bilancio, cui si continua a fare ricorso. In debito ricorso alle risorse aventi, specifica destinazione al fine di raggiungere l'equilibrio di cassa. Si prende da una parte e si mette indebitamente, dice l'OREF, dall'altra. Mancate riscossioni, ICI, TARSU, TARI, senza il relativo accantonamento di risorse nel fondo svalutazione crediti. Quello che dicevamo prima, sostanzialmente da queste voci, ad esempio dalla tariffa dei rifiuti, su cui c'è un mancato incasso storico, assessore del 38%, il comune continua a fare affidamento e quindi a impegnare e spendere dei soldi che sono soltanto figurativi, ma che poi per cassa non entreranno, o comunque entreranno in ritardo, e quindi continua a svalutare o a ridurre il fondo di svalutazione crediti. Tanto noi le imponiamo, però poi questi soldi non entreranno. Sette, fitti attivi, scarsa capacità di riscossione, mancato accantonamento al fondo di svalutazione crediti. Stesso discorso di cui sopra. Fitti attivi già il comune fa pagare pochissimo, in più quello che fa pagare non lo riscuote. Il tutto nel mentre, però, per quanto riguarda i fitti passivi, vero e proprio spreco, il comune continua a pagare 120 milioni all'anno, cosa contenuta anche nel suo piano di rientro, assessore, anche se ora non mi sente perché giustamente al cellulare. Numerose criticità gestionali delle società partecipate, e qui apriremo un capitolo a parte in questo discorso. Anomalie varie in materia di residui attivi, quale quello che dicevamo sopra, si mettono delle somme a bilancio, poi queste somme non entrano e diventano bellamente dei residui attivi. In gente ricorso alle entrate straordinarie, per circa 83 milioni. 11, progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'ente, questo tanto perché c'è discontinuità. Discontinuità, però c'è un progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'ente. A me sembra che ci sia continuità. Varie criticità gestionali delle società partecipate. Inutile ricordare AMA, ADAC in primis, ma ora ci arriveremo. Mancato rispetto del patto di stabilità, anni 2011 e 2012. Necessità di verifica degli effetti del contratto di Campidoglio 2. Errata quantificazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane. 16, gravi illegittimità nell'utilizzo del FSRU. 17, illegittima erogazione dei compensi per incentivare la produttività. 18, illegittimo riconoscimento al personale di progressioni economiche. 19, illegittimo inserimento nei fondi per le politiche di sviluppo. 20, illegittimità varie di compensi al personale. E qua si continua così, perché giustamente la politica ha fatto così per anni e giustamente fate così anche voi in perfetta continuità con i precedenti. 21, illegittimità varie in materia di assunzioni. 22, illegittima erogazione, retribuzione di risultato. Anche qui siamo ai premi che vengono dati benevolmente e generosamente ai manager, senza legarli, magari come sarebbe più opportuno, ad un effettivo risultato di esercizio. Ma vengono magari tante volte legati a criteri risibili come la puntualità, cose che dovrebbero invece essere dovute contrattualmente. 23, irregolarità a contratti decentrati dirigenti. 24, illegittima quantificazione fondo per la dirigenza. 25, corresponsione della retribuzione di posizione in maniera superiore. Vale quello che abbiamo già detto. 26, corresponsione di somme al personale in violazione del principio di omnicomprensività. 27, irregolarità nelle procedure di conferimento in carichi dirigenziali. Tanto perché questa maggioranza doveva ragionare ed agire in maniera diversa rispetto alla precedente. 28, numerose riserve, osservazioni e prescrizioni riportate nel dettaglio del parere dell'Oref sulla relazione semestrale del sindaco. 29, necessità di rafforzare il sistema dei controlli ai sensi degli articoli 147 e 147 qui in questa del Tuel con controlli preventivi con comitanti e successivi. 30, inadeguatezza del controllo analogo e del controllo strategico sulle società partecipate dirette e indirette. Questo si sta verificando per tutte le società partecipate e ora ne parleremo sulle quali il comune non fa quello che deve fare vale a dire vigilare, controllare, dare un indirizzo. Queste società vengono lasciate come terra di nessuno e continuano a spendere e dilapidare ed avere bilanci in perdita come quelli di Farmacap, una delle più piccole cui abbiamo accennato poc'anzi, che è una società che gestisce 44 farmacie e che con la gestione di 44 farmacie è riuscita a perdere, è riuscita nell'impresa di perdere 15 milioni di euro in due anni che questa maggioranza ha sanato in questa consigliatura. 31, il rispetto che la legge di stabilità 2014 relativamente a tutti i contenuti della manovra come da atti allegati e infine il rispetto del decreto Salvarumater e relativamente agli obblighi previsti dal decreto Salvarumater anche per quanto concerne l'approvazione del piano di rientro. Infatti nella conclusione di questa relazione leggiamo che l'Oref sostanzialmente dice che non ha potuto riscontrare la coerenza interna la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio di previsione annuale 2014 nonché la coerenza con i programmi e i progetti del bilancio pluriannale in considerazione rispetto a quanto stabilito per la predisposizione dei piani in corso di elaborazione di quell'articolo 16 del decreto 16 appunto il piano di rientro per Roma ed ancora ritiene infine che il requisito della coerenza esterna e l'attendibilità degli stanziamenti di previsione proposti non sia sussistente soprattutto in ordine a quanto disposto e dalla necessità di rispettare anche in serie di bilancio di previsione esercizio 2014 vale a dire questo la norma di cui è l'articolo 2 dell'articolo 16 del decreto 16 relativamente alle azioni amministrative volte ad applicare le disposizioni finanziarie di bilancio nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzione di personale previsti dalla legge 147 del 2013 a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati tutto questo quindi per dire cosa che questa amministrazione non sta operando con alcuna discontinuità rispetto alla precedente maggioranza non condividiamo quello che dice il sindaco allorché dice che per la prima volta è stato fatto un taglio di spesa corrente infatti è stata tagliata la spesa viva la spesa necessaria la spesa la spesa per i servizi sociali la spesa per la cultura questa città sta soffrendo e questa maggioranza non se ne accorge la spesa per i servizi sociali a Roma è già al minimo si spendono 350 milioni mediamente 110-120 euro a cittadino nel mentre città più virtuose come Milano spendono 180 euro a cittadino questo significa che la spesa per i servizi sociali per il comune di Roma dovrebbe essere almeno 500 milioni di euro invece si continua a tagliare su questo nel mentre gli sprechi del comune sprechi che noi abbiamo indicato abbiamo evidenziato facendo proposte cercando di collaborare con questa maggioranza inutilmente sprechi che restano esattamente lì mi riferisco in particolare agli affitti d'oro mi riferisco in particolare ai bilanci delle società municipalizzate ADAC sotto questa maggioranza è passata da una perdita di meno 156 milioni a meno 220 milioni stesso discorso per ama si continua a tenere un servizio per le auto blu che costa 9 milioni di euro all'anno nonostante le proposte fatte per l'eliminazione questo gruppo ad esempio ha rinunciato alla propria auto cosa che non hanno fatto gli altri c'è uno staff del sindaco che continua a costare oltre 5 milioni di euro tutte cose che sono state anche riprese nel piano di rientro che l'assessore ha presentato piano che per certi versi possiamo considerare anche valido ma che resta pur sempre un piano e in quanto tale sulla carta una società come ADAC continua a sprecare paghiamo 15 milioni per i suoi dirigenti si continuano a pagare super minimi una tantum al personale non si continua a far nulla per l'evasione c'è una mozione una nostra mozione passata il 2 agosto scorso che proprio era finalizzata a questo mozione che è passata nel consiglio comunale mozione che prevedeva il taglio dei super minimi la riduzione dei dirigenti appunto queste cose una revisione dei criteri con cui viene attribuita la premialità e con cui vengono attribuiti i premi ai dirigenti l'eliminazione di questo ricorso continua a concedere una tantum una maggiore lotta all'evasione visto che Adac è una società che incassa soltanto 280 milioni per la biglietteria ed ha un eccesso di amministrativi perché è assurdo che una società di trasporti una società di trasporti su un personale di 12 mila dipendenti abbia soltanto 5.800 autisti è una categoria in difficoltà perché non riescono a prendersi 70, 80 anche 100 giorni di ferie e perché il servizio è coperto per buona parte per circa il 30% anche con i loro straordinari che peraltro costano di più all'azienda e questo nel mentre c'è un eccesso di personale amministrativo con questa mozione abbiamo detto sui motivi per cui ci sia è meglio calare un velo pietoso veramente e con questa mozione abbiamo detto prendi una parte del personale amministrativo e ricollocolo a fare i controlli i controlli sui mezzi per recuperare una parte di questa evasione che molti stimano anche nell'ordine del 30-40% già recuperare quella significherebbe ridurre buona parte dei problemi di bilancio di ATAC eppure non viene fatto viene annunciato sui giornali voi fate annunci però poi le cose non le concretizzate mi chiedo anche come mai visto che c'è un articolo del nostro regolamento che prevede che la commissione trasparenza debba appunto verificare l'articolo 47 debba appunto verificare con quali modalità gli assessori eseguono le mozioni e quindi le mozioni di indirizzo che il consiglio rivolge loro mozioni che restano puntualmente e bellamente disattese stesso discorso potremmo fare per Ama anche qui mentre le nostre strade come dicevamo continuano ad essere invase dai rifiuti Ama ha un piano finanziario che passa da 670 milioni ad oltre 740 milioni 745 milioni se non vado errato anche se poi l'azienda dice che farà 26 milioni o ha fatto 26 milioni di efficientamento parliamo comunque di un piano che va in aumento 718 milioni nel mentre le strade di Roma continuano ad essere invase dai rifiuti nel mentre in Ama c'è un assenteismo record nel mentre l'azienda continua proprio perché si parlava di controllo da parte del comune di controllo analogo che manca totalmente continua a pagare dei super minimi elevatissimi a impiegati che ci manca poco che vengono pagati come come dirigenti tutto questo i vertici di Ama interrogati in azienda riguarda il piano investimenti dell'azienda stessa ci hanno dato delle risposte francamente sconcertanti c'è un problema nel problema c'è il centro TMB Ama di via Salaria c'è un quartiere un quartiere di 60 mila persone a via Salaria sostanzialmente la zona di Villa Spada che vive letteralmente nella puzza 24 ore su 24 che cosa fa l'azienda per questo e cosa fa l'azienda per risolvere il problema del centro Ama TMB trattamento meccanico biologico Ama di via Salaria i richiesti in commissione ci hanno detto che per i due impianti via Salaria e Rocca Cencia per l'appunto sono devoluti 2 barra 3 milioni di euro per la manutenzione è troppo poco questo su un piano finanziario in continuo aumento su un piano finanziario che arriva a 745 milioni e anche quello andrà a finire in aumenti sulla tariffa aumenti dell'ordine di circa 40 milioni visto che il precedente piano finanziario era di 670 milioni questo solo per dire alcune delle società delle società municipalizzate potremmo parlare anche di Roma metropolitane mi dispiace che non ci sia l'assessore in prota a cui avevamo rivolto un'interrogazione proprio sull'accordo cosiddetto attuativo fatto il 9 settembre scorso accordo che era stato pubblicizzato sul sito del comune come la panacea di tutti i mali che hanno caratterizzato questo appalto ma accordo attuativo del precedente accordo buonario sulle riserve vale a dire del secondo accordo che non è attuativo per nulla ma questo assessore non lo diciamo noi consigliamo all'assessore al bilancio di vedersi la determina dirigenziale dipartimento mobilità e trasporti numero 1132 del 27 novembre 2013 riguardo a questo cosiddetto atto attuativo delle riserve del general contractor metro C dove è lo stesso dipartimento comunale ad affermare che non è assolutamente un atto attuativo ma a caratteristiche assolutamente innovative in particolare a pagina 3 leggiamo che in esecuzione del predetto atto di transazione il secondo Roma metropolitana e metro C autonomamente e senza l'assenso preventivo degli enti cofinanziatori Stato Regione Comune hanno stipulato in data 9 settembre 2013 un ulteriore accordo definito atto attuativo della delibera Cipe dell'11 settembre 2012 e conseguente adeguamento del contratto 12 ottobre 2006 che in particolare il predetto atto attuativo ha ridefinito le obbligazioni del contraente generale limitando le stesse alla sola esecuzione dei lavori senza alcun riferimento all'apertura all'esercizio delle tratte funzionali così come previsto nell'atto transattivo quello del 2011 ed in particolare prima fase funzionale Montecompatri Pantano Centocelle incluso deposito Graniti entro il 31 dicembre seconda fase entro il 31 agosto terza fase entro il 30 giugno 2015 sostanzialmente riscadenza i termini ma non solo attribuisce al general contractor una serie di importi in più viene cito solo uno articolo 7 tra i vari che vengono indicati articolo 7.7 estendendo quanto previsto dal loto arbitrale parziale all'intera linea C il riconoscimento a metro C della percentuale il riconoscimento a metro C della percentuale del 3,75 quale compensazione per cento sull'importo dell'appalto quant'è il 3,75% su un appalto da oltre 2 miliardi quale compensazione degli oneri diretti ed indiretti inerenti la funzione di contraente generale ora questo non lo dico io non lo dice il movimento 5 stelle è lo stesso comune che a mettere nero su bianco che questo accordo non è un atto attuativo ma è un atto innovativo stipulato direttamente da Roma metropolitane con il contraente generale assessore ma non esercitiamo un controllo su questa società di Roma metropolitane si prende e si stipulano gli accordi non viene interpellato il comune al riguardo è lo stesso ministero dei trasporti a dirlo con nota 3054 del 24 settembre 2013 nota nella quale afferma dichiara e ritiene questo accordo del 9 settembre 2013 quale ulteriore transazione intercorsa tra le parti che con successiva nota della struttura tecnica di missione del ministero sempre infrastrutture e trasporti è stata ribadita la necessità di procedere ad un ulteriore istruttore di approvazione da parte del Cipe per quanto riguardava le ulteriori obbligazioni assunte da Roma metropolitane nell'atto attuativo ed ancora che la struttura tecnica di missione del ministero infrastrutture anzi voglio voglio leggervi un ulteriore passaggio che con nota 25 ottobre 2013 il dipartimento mobilità e trasporti incaricato di predisporre una relazione circa la verifica della documentazione inerente l'atto attuativo ha evidenziato l'assessore che sia le 45 varianti in corso d'opera che il relativo atto di transazione del 2011 e il successivo atto attuativo del 2013 erano stati redatti e sottoscritti senza alcun coinvolgimento del medesimo dipartimento direttamente tra Roma metropolitana e Metro C e che le predette varianti e l'atto di transazione erano stati approvati direttamente dal Cipe ora dico ma questo comune non controlla quello che fa le sue società municipalizzate prendono e redigono con il general contractor 45 varianti prendono e redigono nel caso di specie Roma metropolitane un accordo bonario che definisce attuativo ma che in realtà per stessa dichiarazione del dipartimento del comune è innovativo in quanto prevede delle obbligazioni in più a carico del comune obbligazioni dalle quali il ministero si tira fuori che la struttura tecnica di missione del ministero ha ritenuto gli articoli 5 e 7 una vera e propria nuova transazione che le obbligazioni assunte da Roma metropolitana con il predetto attuattativo qualora non dovessero essere ratificate e finanziate dallo Stato e dalla regione secondo le percentuali in uso secondo le percentuali di accordo ricadono indirettamente nella sfera giuridica dell'amministrazione capitolina con conseguente insorgere di possibili debiti fuori bilancio mancando la preventiva autorizzazione e copertura finanziaria di Roma Capitale quindi chi li paga questi? li paga il comune di Roma questo è il modo in cui sono state gestite le società municipalizzate stesso discorso per farmacap anche se più piccola una società che lo dicevamo prima 44 farmacie che perdono 15 milioni di euro stesso discorso Assessore per risorse per Roma per risorse per Roma società che dovrebbe espletare 200.000 condoni quante mancate risorse per Roma sono 200.000 condoni Assessore di cui 100.000 risalgono addirittura se non di più risalgono addirittura al primo condone edilizio la legge 47 dell'85 e così discorrendo tutte le società municipalizzate che sono state gestite con queste modalità e di cui i bilanci continuano a gravare sul bilancio capitolino quindi altro che discontinuità Assessore altro che discontinuità condividiamo anche quanto è stato espresso nel piano di rientro certamente come dice anche il collegio i revisori non ne vediamo non ne vediamo traccia in questo bilancio se è vero come lei stessa ha detto che AMA rispetto ai costi standard spende 93 milioni in più rispetto a quanto dovrebbe 70 milioni in più li spende ATAC tutte cose corrette che noi abbiamo avanzato nella commissione di revisione della spesa proposte in questo senso proposte per la riduzione degli sprechi del comune di Roma in particolare i suoi affitti lei stessa nel piano di rientro ha affermato che sostiste un'evidente anomalia se consideriamo che il valore degli affitti passivi del comune di Roma è pari al 5% della della sua spesa corrente laddove un comune come quello di Milano spende l'1% quindi è inutile che il sindaco ci dica che che le spese correnti sono state ridotte sono state ridotte le spese le spese necessarie purtroppo le spese vive le spese per i servizi sociali è inutile che questa maggioranza si inventi come ha fatto qualche giorno fa un consiglio straordinario sul sociale chiamando tutti a raccolta se poi si tratta di una pura reclam fa una reclam ma non c'è il prodotto purtroppo sostanzialmente questa città continua a soffrire da questo punto di vista è inutile che faccia consigli di questo genere convocando tutti le associazioni le categorie le cooperative che operano nel settore laddove gli stanziamenti per la spesa sociale vanno continuamente a ridursi non vediamo che c'è alcuna discontinuità da questo punto di vista gli sprechi continuano e permangono anche su questo bilancio ora o noi vediamo già a partire già a partire da questo bilancio un vero cambio di passo in tutti quei settori che sono fondamentali per questa città perché ad esempio visto che si parlava di Roma metropolitane di Metro C perché si continuano a spendere oltre 200 milioni a chilometro quello che sono laddove si potrebbero e ci sono le soluzioni alternative le ha individuate lo stesso dipartimento in alcuni progetti la stessa agenzia per la mobilità le chiedo scusa un secondo se possiamo eliminare il brusio in fondo all'aula grazie prego onorevole De Vito sì grazie presidente perché non si investe in una mobilità diversa esistono i progetti sono previsti dallo stesso dipartimento dall'agenzia per la mobilità è d'accordo la gran parte della società civile le principali associazioni perché continuare a investire e spendere con progetti che come abbiamo visto con una serie di accordi definiti attuativi ma che in realtà sono dei veri e propri accordi bonari sulle riserve continuano a dilatare nei tempi e negli importi un appalto da quasi o quello che sono 3 miliardi di euro e ad oggi non è stata aperta una fermata perché non si investe in mobilità sostenibile ripeto i progetti ci sono perché non si decide di stoppare quest'opera come alcuni di voi hanno detto o sostengono o fanno finta di sostenere visto che poi le nostre emozioni in tal senso le bocciano perché non si decide di stoppare quest'opera che si sta dimostrando una vera e propria etrovora di risorse e finanze pubbliche a San Giovanni e di investire in una mobilità diversa ad esempio nella realizzazione del Biciplan che forse è una delle poche cose buone che ci ha lasciato il precedente sindaco alemanno mentre qua non si riesce neppure a realizzare una ciclabile prevista da tempo come la ciclabile nomentana perché non si investe in mobilità sostenibile nella realizzazione di metropolitane leggere ad esempio è questo che vediamo che manca in questo bilancio è in questo che vediamo che non c'è alcuna discontinuità questo sindaco si è presentato agli elettori all'insegna di una città a misura di bambino avete parlato di discontinuità dove sarebbe questa discontinuità si continua a investire ad esempio in un appalto come la metro C la scorsa settimana questa maggioranza tanto perché si parlava di una città a misura di bambino ha portato in aula due delibere urbanistiche che prevedevano densificazioni identiche alle delibere che la precedente maggioranza ha portato sul finire della precedente consigliatura e allora ci sorge un dubbio qua non c'è nessuna discontinuità qua a prescindere da chi siano i partiti che governano PDL o PD-L come ci piace a volte dire scherzando comunque PD sinistra o destra qua sono sempre gli stessi interessi che ricevono copertura e tutela nei provvedimenti che vengono di volta in volta approvati a prescindere che la maggioranza sia di sinistra o che la maggioranza sia di destra investiamo in questo date un segno in questo senso lo vogliamo vedere a partire già da questo bilancio perché non si investe sull'ambiente perché AMA ha un piano finanziario che continua a lievitare con una situazione dei rifiuti che è disastrosa ci sono due impianti TMB che sono dei problemi incredibili l'impianto TMB di via salaria che sta costringendo 60.000 persone a vivere 24 ore al giorno con una puzza insopportabile perché questa maggioranza non dimostra di investire in questo questa sarebbe la vera e propria discontinuità neanche sulla tutela degli animali avete rispettato gli impegni previsti nel vostro programma noi ogni tanto il vostro programma lo leggiamo è diventato una barzelletta il vostro programma l'esecuzione che ne stai dando è una barzelletta è una presa in giro veramente di 3 milioni di cittadini anche lì avete parlato di tutela dei canili comunali con un provvedimento di giunta avete ridotto il numero dei cani che possono essere ospitati se non vado errati solo nel canile di muratella da 650 a 250 questo significa andare a chiudere progressivamente i canili comunali e quindi affidarsi a strutture private che costeranno di più ma quale ma quale discontinuità di quale discontinuità avete parlato in materia urbanistica state facendo la stessa cosa nella gestione delle società municipalizzate questo accordo che ho citato su metro C è un accordo vostro 9 settembre 2013 è un accordo imputabile a voi dove sarebbe questa discontinuità nella lotta alla riduzione degli sprechi non vediamo non abbiamo visto alcun miglioramento gli affitti d'oro del comune continuano a star lì l'assessore avrà anche scritto un buon piano di rientro non ne dubitiamo è un piano di rientro che sostanzialmente ricalca quelle che sono state le proposte che abbiamo avanzato nella commissione di revisione della spesa ma resta pur sempre un piano è passato un anno è passato un anno in un anno non avete fatto nulla anzi i bilanci continuano a peggiorare ADAC passa da meno 156 milioni a meno 220 milioni ma come avete fatto? ma dov'è questo cambio di rotta? dov'è questa discontinuità? l'altro giorno è venuto in commissione trasparenza l'amministratore delegato di Broggi su una vicenda che vi riguarda direttamente perché è venuta sotto di voi vale a dire la transazione con un membro del collegio sindacale transazione fatta ad importi abnormi le risposte che ci ha dato l'amministratore delegato rispetto a questa transazione sono state imbarazzanti ci ha detto che prima di farla ha avvertito verbalmente l'assessore in proda questo è stato quello che ci ha detto ma sono queste le modalità con cui effettuate un controllo analogo sulla gestione delle società municipalizzate allora vi diciamo una cosa o veramente siete capaci di dare un segno di discontinuità nel fare bilanci corretti assessore che prevedano un fondo di svalutazione adeguato e che non facciano affidamento su somme che sono meramente figurative ma che poi non entreranno forse entreranno tra qualche anno o dimostrare di cambiare rotta nelle gestioni delle società municipalizzate come lei ha scritto nel suo piano di rientro la tua ha detto che verranno tagliati 93 milioni di costi solo in ama per riportarsi solo sui costi standard o vedremo e lo vogliamo vedere subito perché è già passato un anno e la città non ce la fa più o vedremo un cambio di rotta quindi un risparmio un risparmio vero sulla spesa corrente da reinvestire sul sociale perché Roma sta soffrendo qua continuano continuano ad aumentare tutto continuano ad aumentare le rette per gli asili nido i servizi sociali continuano a ridursi la nostra spesa è troppo poca ripeto poco più di 300 milioni dovrebbe essere 500 milioni o vediamo un cambio di rotta e lo vogliamo vedere subito lo vogliamo vedere subito a partire da questo bilancio è già passato troppo tempo nelle materie che per noi sono fondamentali vale a dire nella tutela dell'ambiente ad esempio quello è un tema che vi ho posto quello del centro AMA di via Salaria in materia urbanistica dove per quanto ci riguarda e quello che è successo la scorsa settimana lo attesta voi state operando in perfetta continuità con la precedente maggioranza quindi una maggiore tutela del territorio dell'ambiente tutte cose che ad oggi non si sono viste su cui stai dimostrando di non impiegare alcun investimento nel mentre questa città questa amministrazione le sue municipalizzate i suoi dipartimenti continuano a sprecare beh allora se è così che stanno le cose per quanto ci riguarda questo bilancio e mi chiedo con quale coraggio lo approviate visto quanto ha scritto l'OREF riguardo alla responsabilità per danno erariale io sinceramente non vorrei essere nei panni dei consiglieri della maggioranza che magari pedisseguamente metteranno il dito e pigeranno e pigeranno sì mi chiedo con quale leggerezza possiate approvare un bilancio di questo tipo per quanto riguarda la nostra sarà un'opposizione intransigente preparatevi a rimanere in aula veramente per qualche giorno tirate fuori le valigie dalla macchina toglietevi le pinne riponete gli ombrelloni perché su questo bilancio se non vediamo veramente un segno di discontinuità vi terremo in aula fino a Ferragosto salvo che non vi inventiate siamo pronti a farlo salvo che non vi inventiate qualche roba qualche ghigliottina strana come abbiamo visto purtroppo ad istituzioni a livelli superiori e non vogliamo sentir dire che questo atteggiamento da parte nostra sì è ostruzionismo è ostruzionismo contro un bilancio che reputiamo indecente non veniteci a dire che questo è un atteggiamento irresponsabile irresponsabile è portare in aula un bilancio di questo tipo irresponsabile è dopo un anno di amministrazione non aver dato come avevate promesso prendendo in giro 3 milioni di cittadini romani non aver dato alcun segno di discontinuità quindi o cambiate musica o vi teniamo in aula fino al 15 di agosto grazie